Siamo nella sala dei notari e seguiremo due incontri, l'uno su la guerra in Iraq e l'altro invece sulle foto che provengono da questi scenari da parte della Reuters. Fareste mai voi gli inviati di guerra? Sì, lo stavamo dicendo appena adesso mentre li consegnavamo. Sì, ci piacerebbe farlo. Cosa pensi del giornalismo di guerra? Trovi che abbia abbastanza spazio sui giornali? Non troppo secondo me, anche perché è un'esperienza sicuramente difficile, non so cos'è la guerra. Grazie. 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 Grazie.